Stabba, stabba! Luca e Maria Rosa, che già conducono un'avviata attività a Popoli, sono i primi commercianti ad aver ottenuto la prima licenza sotto il nome della neobattezzata Popoli Terme. Il Saloon è infatti il primo risto pub in corso Gramsci a misura di grandi e piccoli. L'offerta è variegata e tipica dei pub, hamburger di tutte le taglie, taglieri all'italiana, birra di tutti i gusti. Grande soddisfazione da parte del sindaco Dino Santoro, il quale ai nostri microfoni afferma Intanto sono felicissimo di questo evento, un periodo dove purtroppo non solo Popoli Terme ma il territorio soffre difficoltà a livello commerciale, di commercio in genere. La riapertura di un nuovo locale è sempre un buon auspicio, un buon auspicio rispetto alla linea che da due anni a questa parte stiamo intraprendendo a livello amministrativo su ciò che vogliamo fare di questa nostra comunità, di questo nostro territorio. Oggi avremo, inauguro felicemente questo locale che poi sarà il primo locale che avrà i documenti con la dicitura Popoli Terme perché da breve l'italia istituzionale è terminato quindi ufficialmente siamo a Popoli Terme. Quindi un grosso in bocca al lupo ai proprietari, a Luca, a Rosa, un grosso abbraccio a loro con la speranza che questo corso, il corso di Popoli Terme, si riprenda un po' quello che era la storia del corso la vitalità del corso come eravamo abituati qualche anno fa. Sono fiducioso di questo e niente, in bocca al lupo a loro. Noi sentivamo l'esigenza in qualche modo di continuare a investire, di continuare a dare possibilità di divertimento e quindi ci impegniamo su questa cosa. Credo che oggi siamo pronti ad andare oltre, quindi a provare una sfida nuova che è quella di un pub completamente diverso dal bar, già avendo avuto e avendo ad oggi altri bar. Quindi speriamo che la cosa sia redditizia soprattutto a livello umano per tutti e quindi vi aspettiamo con grande piacere a Popoli Terme che sta facendo grandi novità per il futuro. Grazie a tutti vi aspettiamo al Salone. Vi aspettiamo dalle 19 alle 2 di notte per divertirci tutti insieme e gustare i nostri piatti. Musica e divertimento. Per ora i prodotti sono quelli di un pub, ovvero hamburger, cheeseburger, fritteria e abbiamo aggiunto intanto qualche zuppa, tipo fagioli, comunque piatti a tema con il locale. Grazie a tutti.